Un saluto a voi tutti, un saluto a Ivaldo Sebastianelli, ciao Ivaldo, siamo da Mid Sport, il centro commerciale Le Torri. Ivaldo, fuori tutto dal 4 di settembre al 25 settembre, quindi grande opportunità per tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Che cosa significa fuori tutto da Mid Sport? Fuori tutto è legato a una primavera estate, si sta chiudendo una stagione e tutto quello che c'è lo diamo al 50% anche al 70% e questo per iniziare una stagione autunno-inverno nuova e tutto quello che c'è diamo l'opportunità ai nostri clienti, ai nostri consumatori di poter comprare le ultime cose con dei prezzi veramente vantaggiosi. Questo è il fuori tutto, niente di diverso, insomma. E fra breve, a fine settembre, presenteremo tutto già l'autunno-inverno 2010-2011. Questo significa dare sempre l'opportunità alla clientela di avere i prodotti attuali. Nuove e aggiornate, cose nuove e aggiornate e che siano al passo con la moda e con l'attenzione anche dei giovani che loro vogliono le cose sempre nuove. Un'esposizione molto ampia, abbiamo tre piani, tre piani su livelli diversi, ricchi di materiale sportivo. Di assortimento, sì sì sì. Adesso fra breve inizieremo già con la neve, abbiamo già in questo momento il calcio dove abbiamo tante società sportive che da noi fanno punto di riferimento, parliamo anche del professionismo che è quello che ci premia di più e poi piscina, palestra, tennis, tutte queste discipline sportive, basket e pallavolo. Cerchiamo di dare il massimo sulle discipline che capiamo che il nostro quartiere ci dà più attenzione. Quando si dice esperienza significa anche garanzia. Qui c'è non solo il prodotto ma c'è anche un consiglio professionale. Ma ecco, questo ci tengo a dirlo, grazie di avermelo ricordato. Ci tengo a dirlo perché noi abbiamo tutto personale specializzato, tutto personale maturo. Non abbiamo ragazzi con 20 anni, 15 anni, anche di più di 20 anni di esperienza alle spalle. Primo piano abbiamo oltre 550 metri quadri di assortimento di abbigliamento, dalla palestra, piscina e così via, e l'abbigliamento tempo libero e anche il bambino. Abbiamo anche un grosso assortimento bambino, partiamo da 0 anni fino a 16 anni, 15 anni e giù di lì. Poi il secondo piano è tutto un piano calzature. Dove ci troviamo ora? E' quello che vedete lo sfondo, da running, tennis e tempo libero, con tutta la moda aggiornata. E più sotto, il piano di sotto dove c'è la neve, il calcio e tante altre cose, poi anche cose tecniche su quello che riguarda tapirulane, biciclette e tanto altro. Grazie a tutti.